Rosalinda Cannavò, oggi, ha vissuto un momento emozionante durante un'ecografia in 3D. Grazie alla tecnologia, ha avuto l'opportunità di scorgere il viso della sua piccola nascitura direttamente dallo schermo dell'ecografo. Accompagnata dalla sua ginecologa, questo momento magico ha reso ancora più tangibile l'attesa per l'arrivo del nuovo membro della famiglia. Nel frattempo, a casa, il fedele cane Chino aspettava con ansia il ritorno dei suoi padroni, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. La sua felicità era palpabile nell'aria, come se anche lui comprendesse l'importanza di questo momento speciale. L'attesa di una dolce bambina ha reso ancora più intensa l'emozione e la gioia che per vadono la famiglia Zenga Cannavò. Ogni piccolo dettaglio, ogni movimento del bambino, diventa motivo di grande felicità e attesa. Con il cuore colmo di amore e anticipazione, Andrea e Rosalinda attendono l'arrivo della loro bambina con grande gioia e speranza per il futuro. E mentre il tempo passa, la loro attesa diventa sempre più dolce e intensa, con la consapevolezza che presto potranno finalmente stringere tra le braccia il frutto del loro amore.